buongiorno a tutti a tutti e benvenuti su un nuovo video qui sulla casa di serena oggi ci dedichiamo al comodino innanzitutto vi faccio vedere quello che c'è al mio interno vi faccio un po curiosare diciamo uno degli angoli più diciamo intimi di una persona e poi lo andiamo a riorganizzare perché così non può stare proprio direi di incominciare subito adesso io andrò a svuotare i cassetti li metterò sul mio letto ci metteremo comodi e comode e andremo a lavorare questo è il mio comodino ereditato dalla vecchia casa che avevamo io e mio papà che abbiamo abitato per un piccolissimo periodo da soli e praticamente niente sono due comodini identici che prese lui per la sua stanza da letto e poi me li sono portati via io si compone di tre cassetti io come tutti i video che sapete che il giro non l'ho preparato quindi non spero non si sia nulla di imbarazzante diciamo c'è un cassetto miscellaneo assolutamente da riorganizzare sì c'è anche la mia lucettina ma da quanto sei accesa figlia mia ma reggio ancora ecco poi un altro che in teoria è dedicato al settore beauty che cura della pelle è un altro che una volta c'erano tanti biglietti di auguri ma l'ho trasferiti di la insieme ad alcuni disegni in una scatola sotto a letto dovrei unirci questi ma giordano mi fa tipo 127 mila disegni al giorno smontiamo tutto ecco qui tutto in ordine per quanto riguarda l'organizzazione avevo delle scatole ma penso che andrò a cambiare e ho deciso di provare ad utilizzare questi dispenser di scusate divisori che una volta utilizzavo per i gioielli io partirei un attimo con il prenderlo suotare tutto al momento non li pulisco perché andiamo a riorganizzarli non ce ne necessità comunque stanno bene non c'è neanche polvere però sappiate che va fatto anche questo qui c'è veramente la qualunque bellissimo quindi svuoterei tutto così ho ben chiaro il quadro e vado ad organizzarmi per categorie come dicevo nel primo cassetto ci devono essere varie cose perché un cassetto che utilizzo spesso sto pensato di dedicare un cassetto all'elettronica quello dove prima c'erano i disegni di giordana dove posso mettere le fotocamere i caricabatterie soprattutto lo stand per il cellulare le cover eccetera eccetera il primo cassetto io ci ho sempre tenuto alcune cose ed è per questo che conoscendo queste cose mi è venuto in mente di utilizzare uno di questi innanzitutto vado ad accertarmi che ci entri sì perfetto allora io nel mio comodino non possono mancare ci sono le forbicine di giordana per le unghie che se non non sa dove trovarle quindi le mettiamo qui magari ma ho dei accessori tipo la limetta per le unghie questo cosettino qua pure simpatico per le unghie non può mancare un paio di elastici a volte anche se io di solito ne tengo uno al polso e quello basta proviamo a metterli qui delle forcine allora qui vedo altre lime in cartone e le sistemiamo insieme a quest'altra forcine e mollettine sparse io direi di fare così è uscito anche un altro elastico prenderei tutte le forcine beccucci purtroppo il mio bagno in camera è molto piccolo e quindi alcune cose devo tenerle qui sistemo un attimo direi che già mi piace mi piace poi diciamo che qui avrei già finito le cose di questo genere ma continuo con la spazzola una mini spazzolina la tengo sempre qua a volte quando mi avete vista preparare giordana per la scuola al volo le ho detto di bocchiappa la spazzola nel comodino per non andare a scavare nel bagno ci fa comodo tenerne una qui a poi abbiamo il bite notturno non lo metto spesso perché è un po doloroso due burro cacai burro cacao come si dice che non possono assolutamente mancare perché io mi sto spellecchiando tutto il labbro inferiore quindi mettere l'idratante qui che lo utilizzo di più e l'enitivo lo possiamo mettere qui poi qui ho delle salviette per lavare praticamente i denti lo so che è strano perché tempo fa su amazon andai ad acquistare questo kit dentale sinceramente se riuscissi ad incastare una scatolina di quelle trasparenti che avevo prima qui no mi dispiace non ci vanno avrei potuto conservare tutte le cose perché ne sono tantissime praticamente ora le mettiamo in quest'altro cassetto che lo dedichiamo un po al beauty vediamo un po ci sono i bite che ho dovuto fare io praticamente bollendoli aspirandoli un casino hanno preso proprio la forma della mia bocca i beccucci per le siringhe che io non uso quasi mai perché questo kit se vi devo dire la verità non mi fa impazzire è il prodotto bruciacchia un po però c'era scritto nelle istruzioni tutte le siringhe monodose in teoria non è vero una siringa ci possono fare anche 45 applicazioni perché morite se ne usate troppo che siamo tutto dentro non so che strano si mette il gel nelle mascherine si fa aderire bene i denti e con la luce a così ovvi si mette in bocca comunque io direi che qui lo dedichiamo a questo non è molto igienico tenerci anche le cose che ci tenevo prima qui ovvero i rasoi però se stanno nella scatola e non stanno a contatto sono tranquilla io metterei questi sul retro così mi vado a sistemare allora ho un paio di creme che potrei mettere sopra il gentle in beta serve per la qualunque e vabbè questa è una rimanenza di vaseline che utilizzavo per i miei numerosi tatuaggi e la metterei sempre qui su ci vado ad aggiungere anche i cerotti per le scarpe tipo quelle stive che fanno malissimo sono qui sicuramente da anni non li uso mai e poi c'è una crema idratante dopo sole non so perché sta qui perché piccolina me la regalarono addirittura ma vabbè va buttata con tanti saluti viva che va buttata facciamo qui la pila di spazzatura abbiamo già recuperato qualcosina come stavo dicendo qui avevo i rasoi in questo cesto beige orribile veramente orribile quindi dato che sono tutti comunque chiusi fatte eccezione per uno direi che posso sistemarli lo stesso qui abbiamo il silk e pill qui c'è l'epilatore brown a penna per diciamo la zona bikini per rifinire poi ho questo qui che non uso da una vita lo vedete così rovinato perché ho tentato tempo fa di toglierci un semi permanente fucsia fra l'altro scusate lo so devo comprare comunque le ricarica per è un accessorio che voglio tenere perché è comodo e lo mettiamo qui questo qui serve per levigare le zone spessite dei piedi abbiamo il caricatore del cimelio che ho da quando avevo tipo 15 16 anni non lo so comunque questo è un rasoio che però non estirpa tipo l'epilatore non è come il silk e pill quindi non fa male e lo utilizzo sotto le braccia perché sapete che io a volte le ascelle non posso utilizzare ceretta epilatori perché avendo il mio problema di rigonfiamenti tipo lipomi quello che sono non posso andare a tendere la pelle purtroppo quindi altri metodi non posso utilizzarli e questo lo mettiamo qui e già questo cassetto mi piace perde un po perché profondo ed è un peccato tenerlo così però direi che può andare vediamo l'ultimo e ci sistemiamo tutta la tecnologia in realtà prima di iniziare ho trovato la mia mascherina da notte queste carinissime della legami o legami alle microsfere qui quindi si può scaldare leggermente al microonde oppure si può mettere in frigorifero è comodissima tra l'altro che morbidissima in velluto e direi che si merita il suo posto qui nel primo cassetto non mi piace molto così sapete che sono maniaca quindi non ci fate caso ma quando andiamo a fare un lavoro del genere sapete che è tutta questione di organizzazione prego dimmi che ecco qua sono riuscita a far stare questi due insieme molto meglio ecco qua e ci siamo andiamo a vedere la tecnologia che cosa ho io nel mio comodino allora ho cambiato da poco telefono come qualcuno di voi sa quindi io questi li andrei ancora ad utilizzare però ne metterei due se trovo l'altro magari è meglio no l'ho usato per i denti ai 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 vabbè comunque ho una piccola circo light da applicare allo smartphone mi serve per illuminare per fare dei selfie o dei video ma presto mi arriverà per i video per la fotocamera e tutto il resto appresso i treppiedi con la circo light gigante evviva anche dolora comunque ci sono veramente cose strane qui tipo il telecomando del ventilatore è in soffitta bene un supporto per il cellulare che in realtà viene da un gioco del nintendo io ci appoggio il cellulare qui quando non esistevano i pop socket e guardavo la tv se lo possiamo mettere sfuso la mia fantastica video fotocamera adesso girando dallo smartphone l'alimentatore della fotocamera le istruzioni della fotocamera e ora senza neanche andare a guardare io vado a caricarmi tutte le cosine che riguardano la scheda qui dentro così lo conservo ci sono poi vari ed eventuali accessori questo è quello lì per far uscire la scheda uno deve essere del vecchio samsung uno del nuovo li conservo entrambi tanto fastidio non mi danno li mettiamo sempre qui e poi c'è il supportino per se non trovo praticamente qualcuno che ha il mio stesso caricabatterie posso portarmi questo e adattare un altro caricabatterie di non di ultima generazione ho poi due paia di auricolari questi sono quelli di default dicevo proprio i samsung che sono usciti dal telefono e questi sono quelli che uso quando vado a correre ahimè ultimamente è una vita non vado dalla primavera scorsa mi manca tanto spero di riprendere al più presto li mettiamo qui non sto troppo a sistemare e l'apparecchio per mettere la chiavetta usb nel cellulare questo deve essere utilissimo per scaricare i dati ma non l'ho mai usato se questo è del vecchio cellulare quello che presi due anni e mezzo fa ed ha ancora la pellicola sì salve sono anche o reduce di unghie da quarantena questa è una rimanenza di gel non ci fate caso cos'altro trovo un evidenziatore che può anche evitare di stare qui una spilla ricordo una cover del cellulare nuova non sapevo che avessi anche la parte davanti infatti non mi fa impazzire però non la voglio buttare nuovissima nel nuovo telefono la mettiamo qui ho trovato una vecchia cover del vecchio cellulare la vado a mettere dove tengo il vecchio cellulare mi restano tutti i disegni di giordana che vada a unire agli altri poi delle maschere viso che non dovrebbero stare qui quindi le porto in bagno e infine i miei elastici da fitness penso che li posso tenere dove tengo anche i pesi il tappetino in questo momento sono in salotto a fianco alla tv perché mi alleno ogni mattina inizialmente mi stavo allenando giorni alterni ma ora ultimamente mi sto allenando tutti i giorni quindi questo è il risultato finale spero che vi piaccia io non so cosa tenete voi nei vostri comodini mi sono molto 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 essenziali neanche l'azienda ci tengo sapete che la tengo qua perché è bellissima l'agenda è nulla e quindi queste ci vediamo al prossimo video ciao